Formazione Emplener per 500 studenti bellunesi dai 3 ai 14 anni grazie all'iniziativa Green Camp, che mira la tutela del patrimonio ambientale nonché all'educazione, allo sviluppo e all'alimentazione ecosostenibile per le giovani generazioni, messa a punto dal Comune di Limana e Fondazione Fantastiche Dolomiti attraverso il bando format della Fondazione Cariverona con la collaborazione di molteplici associazioni e istituzioni scolastiche. Le attività sul territorio saranno molteplici, principalmente vi saranno delle visite guidate alle aziende della zona alta del Comune di Limana e anche in parte di Borgo Valbelluna con le Zercole e la Schirata. Le visite coinvolgeranno naturalmente anche la latteria sociale turnaria di Valmorel, che è un nostro fiore all'occhiello. In plein air saremo anche però nel centro di Limana, in quanto una delle attività più particolari è la prova della bicicletta d'idrogeno che verrà svolta nei cortili dell'Istituto Compressivo. Una progettualità che partendo dai più giovani abbraccia la sfida collettiva della transizione ecologica. Vogliamo assolutamente coinvolgere i bimbi, renderli partecipi, farli adottare il territorio. Ci sono 12 laboratori per questo, dove loro toccheranno con mano la natura, la vedranno crescere, la faranno crescere, toccheranno il latte per fare formaggio e quindi si renderanno conto di quanto prezioso è questo territorio per il loro futuro. 88 mila euro il tesoretto a disposizione del progetto, finanziato in parte dalla Fondazione Cariverona e in parte dal Comune. 24 mesi la durata dell'iniziativa al via da gennaio. Chiaro, dunque, fin da subito, l'intento. Far capire il territorio, farlo conoscere, farlo apprezzare, amare, valorizzarlo e quindi poi di portare avanti una cultura anche su quello che è la valorizzazione del territorio e la sostenibilità dello stesso. Quindi diciamo che poi i ragazzi diventerebbero anche dei moltiplicatori, dico io, perché poi porteranno alle famiglie, al resto della società, alle loro esperienze, alle loro conoscenze e ci aiuteranno per un futuro migliore a livello ambientale.